ciao a tutti benvenuti sul mio canale feri ASMR io sono Sperica e questo è un video ASMR rilassante voglio mostrarvi durante questo video il mazzo di carte che vedete qui sul mio tavolo si tratta di un oracolo che si chiama come me ed è feri oracoli un oracolo delle fate l'ho acquistato un po' di tempo fa in libreria per la precisione in una montatori immagino che lo troviate ancora se avete voglia di acquistarne uno anche voi l'autore di questo mazzo è Arthur Rackham insieme a Jamie Elford adesso andiamo a scoprirle insieme prima però ricordatevi di lasciare un like se l'idea di questo video vi piace e di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti attivando la campanella per ricevere tutte le notifiche dei nuovi caricamenti se avete voglia di vedere in futuro altri video rilassanti bene, indossate le cuffie, mettete i coppi e noi iniziamo il materiale di cui è fatta la scatolina è un cartone sul quale è molto piacevole fare un po' di tapping è probabile che voi lo sentiate in maniera molto delicata perché ho il microfono a favore di voce questa volta allora qui vediamo uno strino che ci aiuta a sollevare il mazzo questo è il libretto delle istruzioni e qui ci sono tutte le carte non ricordo precisamente il costo di questo oracolo ma mi pare che non fosse eccessivamente alto allora andremo a guardare il mazzo di carte in maniera un po' approssimativa perché non voglio andare in questo video fare con voi una lettura andando a scoprire il significato di ognuno degli arcani però se avete voglia di vedere un video con una lettura interattiva scrivetemi qui sotto in un commento e vedrò di realizzarlo il suono che sentirei adesso è un flipping pages sto praticamente sfogliando le pagine in te e di questo manuale di istruzioni e quello che è noto sin da subito è che le pagine emanano un profumo buonissimo potrebbe essere interessante anche registrare un video con una lettura in audiobook per l'altro il libretto di istruzioni è in diverse lingue e c'è anche per esempio lo spagnolo ma andiamo a vedere le carte innanzitutto il retro guardate come sono decorate ci sono due putti due angeli bambini però se guardate bene le ali di questi angioletti sono in realtà delle fate che semplicemente sostengono i pelli e poi su questo sfondo verde petrolio ci sono dei kiligori e dei fiori non so se sia nell'ordine di numero la particolarità di questo mazzo è che le carte non hanno un nome o almeno non hanno un nome scritto sulla carta stessa ma solo un numero e bisogna poi andare a verificare sulle istruzioni a cosa corrisponde però per quanto mi riguarda adoro fare le letture di argani come questi lasciandomi guidare dal mio senso dell'intuido mentre guardate la carta numero 29 vi faccio ascoltare il suono delle carte il suono delle carte il suono delle carte mescolate un po' più vicino al microfono non so voi ma io trovo ASMR qualsiasi gioco con le carte quando ero molto piccola mi incantavo a vedere giocare mio nonno mio nonno insieme ai miei genitori nella casa che avevamo al mare e volevo sempre giocare insieme a loro ma non me lo permettevano e mi davano invece un altro mazzo di carte più vecchi con le quali giocare da solo questo è uno degli angeli della copertina e poi poi c'è l'argano numero numero 9 molto molto evocativo non trovate? c'è dell'acqua forse una ninfa e diverse figure umane nascoste tra gli elementi naturali guardate qui questa ragazza che sembra fondersi con l'albero questo è l'argano numero 18 e c'è una faccia nascosta anche nel labbro non so se riuscite a vederla immagino di sì io sono beh penso che lo immaginerete particolarmente attratta da questo mondo fantasy fatto di fate di elfi di folletti di gnomi la carta numero 33 ritrae delle figure femminili avevo dato un'occhiata al manuale appena acquistato il mazzo e ce l'ha proprio scritto che parte integrante di una buona lettura sarebbe stata l'intuizione guardate guardate la carta c'era scritto lasciate che vi ispiri vediamo questa mi diverte e mi inquieto un po' al tempo stesso forse per via degli uccelli sul rano che hanno una buffa espressione ma nello stesso tempo sembrano vigilare sull'operatore di questa figura la carta numero 3 la carta numero 3 qui ci sono delle figure alate forse sono dei draghi chissà sono creature della notte la carta numero 13 sembra rappresentare un conflitto che ne dite? voglio verificare una cosa c'era scritto sul libretto ossia che l'oracolo delle fate contiene il materiale illustrativo di Arthur Rackman vissuto tra il 1867 e il 1939 è stato un pittore fantasy le cui illustrazioni hanno rinato le pagine di libri per bambini le sue prime illustrazioni sono state realizzate appena in Chiostro di Chi mentre alle sue ultime immagini sono stati aggiunti gli acquarelli per creare effetti da sogno le sue illustrazioni sono comparsi nei libri di Barry Kiplik e Carole avete per caso qualche libro che sia illustrato da lui? magari a casa nelle macchie libri guardate questo non so mi sembra quasi che questa creatura fantastica simboleggi il vento è due bambini potrebbero essere anzi le grepe e questo molto strano è quasi indecifrabile forse bisogna solo guardare con attenzione questi bambini hanno l'aspetto di piccoli elfi guardate le orecchie e qui una donna alato che porta sulle spalle in viaggio nel cielo un bambino un'altra carta che sembrerebbe indicare una guerra conflitto queste creature sembrano creature della notte sembrano quasi dei demoni rappresentati rappresentati nell'atto della loro caduta un bambino con i geni questa carta invece a me ispira positività senza di protezione la 17 c'è una culla poi ci sono degli elfi che si affacciano alla porta di questa camera forse sono interessati al contenuto sulla culla vediamo ancora molto molto evocativa questa c'è una specie non so di forse che suona cos'è una viola quella? non so definire poi una funambola sotto c'è la rete di maragnate filasse qui qui la carta numero 21 anche questa mi incuriosisce parecchio perché sembrano convivere figure umane e figure mitologiche come questa come questa come questa è la carta 35 guardate anche i colori sono molto importanti riuscite a distinguere le figure questa questa è la carta 15 non so che fiori siano quelli rappresentati sembrerebbero dei soffioni che ne pensate? qui c'è un bambino molto molto piccolo e poi c'è uno colone e c'è un ampio che sembrerebbe un fiore ma forse 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 queste sono delle forfalle la carta numero 7 la carta numero 7 sembra rappresentare un vecchio limite forse è un bagabonto forse è un bagabonto o forse è un mago o forse è un mago in ogni caso è una persona in viaggio con un grande grande sacco di spalle 34 una bimba e dei folletti degli elfi che sembrano che sembrano farle un dispetto o forse stanno solo cercando di trattenerla magari dal pericolo vedete? lì c'è una figura oscura che lei sembra guardare un po' spaventata un po' spaventata qui torna l'elemento dell'acqua questa volta in una fontana scolpiti nella pietra queste due creature che hanno tutta l'aria di essere tenebili questo sembrerette proprio matrimonio non vi da l'idea che questa sia una sposa con questo vestito così ampio che le sue tapicelle lo strascico del vestito s'arretto da fatine che ne pensate? sembra una buona carta oh questa la cercavo la carta numero 1 è molto particolare ci sono dei pesci il che fa pensare che questa scena stia venendo sott'acqua è un mondo sommerso forse chissà chissà con la carta 11 con la carta 11 la carta 11 dall'idea del gioco vedete questa figura sembra rivelare un segreto questa figura sembra sembra rivelare un segreto questa figura chissà cosa vanno davvero chissà cosa vanno davvero oh anche questa è molto bella notate anche qui i colori della carta azzurra come il lago e questa serie sfumata di grigie queste sembrano tutte fatte si questa è decisamente la mia carta preferita la numero 36 la carta 6 la voglio tenere da parte perché voglio leggerne il significato oh la carta 6 2 donne altri folletti ognomi oh qui ce n'è un'altra e lo diceva il manuale di guardare attentamente perché si nascondono figure umane negli elementi naturali la carta 22 invece a me ispira serenità pace queste due figure femminili stanno distaccandosi dalla terra serenamente guardando verso l'alto ma in realtà hanno gli occhi chiusi ma il mento è rivolto verso l'alto vuol dire che tendono a qualcosa che sta su poi la carta 10 stanno applicando dei fiori a questo che sembrerebbe un bambino forse lo stanno lavando forse è una sorta di battesimo chissà di nuovo di nuovo il bosco di nuovo cos'è? un gufo oppure una cinetta secondo voi? degli strani personaggi con delle lanterne attaccate a dei pastori che sembrano quasi uscire nell'albero e di nuovo figure faccia nei tronchi degli alberi wow penultima carta la numero 12 qui si fa musica qui c'è uno sbattito e tutte queste figure sembrano cantare o suonare e poi da ultimo la carta 14 che è rappresentata anche in copertina vedete? è la stessa figura qui in grandita adesso sono curiosa di leggere il significato della carta numero 36 non mi sbagliavo la carta numero 36 si chiama rallegrarsi rallegrarsi questa carta è un meraviglioso auspicio da rigenere rallegrati e festeggia con la tua tribù hai lavorato duro e fatto un sacco di cose sappi che i brutti momenti passeranno e la benevolenza tornerà ti trovi proprio in un momento così lascia cadere il putifere davvero bellissimo vi lascio allora con questo augurio che possiate rallegrarvi che possiate trovare i vostri pensieri felici per questa notte e per i giorni a venire ricordate di lasciare un vostro pensiero felice tra i commenti come segno del vostro passaggio e se vi va noi ci vediamo al prossimo video bacini vado che ci vediamo